Anticipazioni terra amara, Vahap presenta a Kadir una serie di armi e altro materiale bellico proveniente dal Libano. Kadir vedendolo manipolare tali oggetti in modo pericoloso, preoccupato, gli chiede se sta bene e se sta prendendo le medicine. È consapevole che Vahap potrebbe avere ricadute a causa del trauma subito durante la guerra in Libano. Lui assicura di prendere regolarmente le medicine, ma quando Vahap gli chiede come è finito nelle mani di Akan, Kadir risponde cripticamente, suggerendo che è meglio non saperlo. Tuttavia, Vahap insiste dicendo che se qualcosa dovesse succedere a lui, Kadir deve sapere chi e perché uccidere. Successivamente, Vahap rivela a Kadir che un video è stato manipolato e è pronto per essere utilizzato nei loro scopi. Betul sta per andare a fare shopping per il fidanzamento con Luce, mentre Sermin desidera unirsi a loro. Betul, temendo che Sermin possa rovinare tutto, rifiuta categoricamente, minacciando di farle rinunciare al fidanzamento stesso. Nel frattempo, Betul e Luce fanno acquisti seguendo le tradizioni per il fidanzamento, con Luce che invita Betul a scegliere ciò che le piace. Tuttavia, durante il percorso su una strada secondaria, vengono fermate da due uomini armati che le costringono a salire su una macchina guidata da Vahap. Le conducono in un cinema vuoto, dove Kadir appare su uno schermo e proietta un video manipolato che accusa Fikret di traffico di droga. Luce, indignata, accusa Kadir di aver teso una trappola a Fikret. Kadir ammette la sua colpa, minacciando Luce con una pistola e avvertendola di non indagare su di lui, altrimenti mostrerà il video alle autorità distruggendo gli Aman e i fecheli. Kadir, mantenendo costantemente la pistola puntata alla testa di Luce, le chiede se ha compreso il suo messaggio. Luce risponde affermativamente. Successivamente, Kadir pone la stessa domanda a Betul, ottenendo anch'essa una risposta positiva. Kadir sottolinea che è compito di entrambe ricordare sempre ciò a Luce. Dopo il saluto, Kadir se ne va, lasciando sole Betul e Luce. Betul, preoccupata, chiede a Luce come si senta e le avverte sulla pericolosità di quelle persone. Luce esprime il suo rammarico per essere stata coinvolta in tutto ciò. Betul le consiglia di non rivelare nulla a nessuno, poiché Kadir è estremamente pericoloso. Luce assicura a Betul di mantenere il segreto per il bene delle persone che ama. Tuttavia, decide di continuare, insieme a Betul, a raccogliere informazioni di nascosto su di loro, determinate a far emergere la verità seguendo la legge. Nel frattempo, Akan si reca in officina e sente due ragazzi parlare di un filmato che i capi hanno girato e messo in ufficio. Curioso, Akan si reca nell'ufficio e nota un armadietto chiuso con nucchetto. Lo forza e trova al suo interno un disco contenente un video. Akan lo prende con sé. Nel frattempo, Zuleya va in paese per acquistare fiori e cioccolatini che Fikret dovrà portare alla sua fidanzata. Ignora che Vaap la stia seguendo e osservando, trovandola incredibilmente attraente. Akan si reca da un ragazzo per far proiettare il filmato. Durante la visione, oltre a scoprire che il soggetto è Fikret, si accorge che il video è stato manipolato, mostrando la parte finale prima e l'inizio dopo. Il ragazzo conferma la manipolazione. La sera, mentre tutti sono pronti per andare con Fikret a chiedere la mano di Betul, temono che possa aver cambiato idea poiché non è ancora arrivato. Anche Chetting confida a Gulten di essere preoccupato perché Fikret non ama Betul. Gulten gli fa notare che non può abbandonarla dopo essersi fatto vedere con lei in tutto il paese. A unirsi a loro arriva Zuleya, che chiede a Chetting di cercare Fikret perché Luce è preoccupata. Nel frattempo, Sermin è furiosa per il ritardo e tormenta Betul temendo che Fikret possa aver cambiato idea. Le minaccia di distruggere tutto, denunciandoli con un articolo che farà pubblicare sul giornale. Poi la attacca, dicendole che Fikret non è alla sua altezza e che avrebbe dovuto scegliere Pierre, un milionario. Betul, esasperata, sbatte un vaso a terra e le chiede di smetterla, facendole capire che sta male e che le cose non vanno come vorrebbe Sermin. A quel punto, Sermin la abbraccia e la consola. Chetting trova Fikret in una taverna mentre beve vino e gli ricorda che tutti lo stanno aspettando, con Luce preoccupata e Zuleya che lo ha mandato a cercarlo. Fikret commenta che Zuleya vuole che si sposi con Betul. Chetting gli risponde che Betul lo sta aspettando e gli chiede di avere pietà di lei. Fikret gli dice di sapere che Chetting vuole che faccia la cosa giusta per rimediare all'errore con Betul e infine si decide a muoversi. Fikret arriva alla villa con Chetting e Luce subito si accorge che ha bevuto. Luce cerca di provarlo, ma lui le assicura che farà il suo dovere, ma prima deve parlare con Zuleya. Luce cerca di fermarlo, ma lui le dice che se non lo fa, rimarrà una ferita aperta. Vengono interrotti proprio dall'arrivo di Zuleya, che porta i tradizionali fiori e cioccolatini per la fidanzata. Gli dà il benvenuto e gli dice di averli comprati lei pensando che lui se ne sarebbe scordato. Fikret la ringrazia, preso alla sprovvista, rinuncia a parlare e dice di andare da Betul per concludere quella storia. Quando tutti giungono a casa di Betul, sono calorosamente accolti da Sermin. Luce, inventando una scusa per il loro ritardo, riesce a mantenere una facciata di normalità. Dopo aver gustato il caffè, come da tradizione, Luce recita la formula della richiesta di fidanzamento. Sermin esita a rispondere, ma alla fine dice che ci penserà. Betul cerca di spingerla a prendere una decisione, e Sermin, dopo un momento di riflessione, annuncia che per la sua unica figlia desidera una grande festa di fidanzamento. Luce accetta comprensiva, mentre Fikret continua a rimanere chiuso nel suo mutismo. La cerimonia di fidanzamento viene quindi rimandata per svolgersi durante la festa elaborata che Sermin desidera. Nel frattempo, Akan raggiunge Kadir e va up in una taverna e ironizza su Kadir, chiedendo se sia diventato un regista o uno sceneggiatore. Kadir, confuso, chiede spiegazioni, ma Akan mostra il disco del film Kadir cerca di spiegare, ma Akan gli ricorda di avergli detto di non fare nulla a sua insaputa. Akan getta il disco nel fuoco del cammino, avvertendo Kadir che è l'ultima volta che lo perdona, minacciando conseguenze più gravi in futuro. Va up cerca di reagire, ma Kadir lo ferma. Akan, infastidito, accusa Kadir di aver rovinato tutto per una donna, gli dà uno schiaffo e Kadir a fatica riesce a trattenere il fratello e a mandarlo via. Kadir scarica la colpa su Akan e gli dice che lo manderà via. Akan, tuttavia, ribatte che è stato Kadir a rompere il loro patto e a tradirlo, intimandogli di non farsi più vedere. Più tardi, mentre sono in macchina, Kadir rimprovera Va up per aver aggredito Akan. Riconosce che quanto detto da Akan è vero, poiché quest'ultimo è pazzo e ha trascorso un anno in un ospedale psichiatrico. Kadir informa Va up che il giorno successivo dovrà tornare a Smirne, poiché la sua presenza sta diventando un problema. Va up persiste nel restare, e quando Kadir minaccia di eliminarlo, si allontana dalla macchina e se ne va. Kadir, pentito, si rimprovera per averlo chiamato. Nel frattempo, Sermin, soddisfatta dopo che tutti sono partiti, riceve un rimprovero da Betul. Quest'ultima le fa notare che i suoi capricci potrebbero rovinare tutto e che, senza di lei, avrebbe già indossato l'anello di fidanzamento. Sermin, determinata come sempre, ribatte sostenendo di diventare la donna più ricca di Cucurova, rendendo Zuleia insignificante a confronto. Insiste che tutti devono vedere la sua fidanzata con una grande festa. Betul la consente, concedendo a Sermin ragione. Fikret, con la zia, esprime soddisfazione per aver rovinato le cose per obbligarlo a fidanzarsi. Luce gli fa notare che si è rovinato da solo ma ora può iniziare un nuovo capitolo dopo il matrimonio. Fikret, però, decide di non trasferirsi ad Istanbul con Betul e Kerem, dichiarando che quella è la sua casa. Nel cuore della notte, Vahap entra di nascosto nella villa. A sua volta, si introduce nella camera di Zuleia, che dorme profondamente. Dopo averla osservata per un po', Vahap si sdraia accanto a lei. Quando Zuleia avverte qualcosa e si sveglia, lui si nasconde. Zuleia si alza per controllare i bambini, mentre Vahap si allontana rapidamente. Il giorno successivo, Kadir litiga con suo fratello che desidera uccidere Akan. Kadir gli fa notare che, se non fosse nelle sue mani, lo avrebbe già fatto lui. Ordina al fratello di tornare a Ismir per evitare di far impazzire Akan e gli raccomanda di prendere i suoi farmaci. Prima di andarsene, lo abbraccia e lo guarda partire. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!